stai facendo bimbo che sta scritto la? tu sei sterro? no io l'ho vista sul muro da qualcuno e ho provato a rifare e non la devi rifare, questa è una cosa storica voi state esagerando queste scritte, la voi capite? sei piccolo pure sei inizi già da questa età io non le faccio più hai preso una brutta strada figlio caro imbrattare il pronato della villa non è bello questo è il vandalismo ho capito, lo devi pure ammettere che non lo fai più me lo prometti? è l'ultima questa non prendere ad esempio di questi coglioni qua che vanno facendo i skateboard vuoi fare lo skateboard? fai lo skateboard? al massimo le faccio sui coglioni si ma non le fare proprio che sono cazzate queste non vanno fatte questa è una stronzata, un'americanata che purtroppo butta quel pennarello bravo 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 bravo